Il Master Conf Estetica nasce da un'esigenza chiesta proprio dalle nostre iscritte cioè l'idea di passare da artigiana a manager del centro per questo abbiamo preferito fare un tipo di percorso che si esula dal classico corso di massaggio anziché ricostruzione eccetera eccetera noi partiamo da un presupposto che l'artigiana deve essere un manager e l'estetista deve essere una manager quindi abbiamo fatto un corso di tecniche di vendita passeremo al fidelizzazione della cliente gestione del personale marketing cosmetologia e anche autostima e motivazione perché comunque si deve essere positivi nel proprio lavoro grazie a questo pacchetto molto ben strutturato abbiamo una collaborazione proprio con la Sapienza di Roma quindi diciamo il nostro percorso è stato anche ufficializzato da un ente così importante e questo è un fatto unico per il nostro settore